Conf Cooperative Ferrara compie 60 anni, un traguardo importante per la cooperazione sul nostro territorio che è stato celebrato in un'assemblea tenutasi in Castello Estense. Ad aprire i lavori è stato il presidente Conf Cooperative Ferrara, Roberto Crosara, che ha fatto il punto di questo lungo percorso che ha preso il via nel 1958. Ferrara, nascendo nel 1958, come giustamente Riccardo a lei, ha compiuto 60 anni di cooperazione. È un valore sicuramente importante perché dalle radici storiche, che sono radici legate alla dottrina sociale della Chiesa, siamo arrivati oggi sempre con quelle radici, sempre con quelle etiche, sempre con quei valori, siamo arrivati a trasformare la cooperazione rispetto a quello che era all'inizio, nel senso che la cooperazione non è rimasta fondamentalmente sul lato economico, sulla tipologia di sviluppo delle cooperative, quella che era naturalmente 60 anni fa, ma è riuscita ad adeguarsi ai nuovi bisogni e alle nuove necessità di questi tempi. Il futuro di questa cooperazione sarà un futuro legato soprattutto alle nuove necessità che stanno emergendo. emergendo, noi durante l'assemblea abbiamo fatto un'analisi di quelli che sono i futuri bisogni, bisogni che nascono da una lettura, soprattutto delle diseguaglianze che sempre di più stanno aumentando nel nostro Stato, nella nostra regione, nella nostra provincia. E per quello che riguarda esattamente Ferrara, Ferrara è una regione comunque ricca, ma sappiamo che è un po' la cenerentola dell'Emilia Romagna. Ferrara come sta rispondendo? Quali sono le prospettive per la nostra provincia? La nostra provincia ovviamente vede un po' di varicarsi la posizione rispetto alle altre province della Via Emilia. Questo è esattamente un tema che discuteremo oggi anche con Patrizio Bianchi, col Sindaco, col nostro Vescovo. Come fare a far sì che il nostro sistema territoriale rimanga agganciato a quello che oramai l'Emilia è diventata la locomotiva d'Italia perché nelle performance economiche è migliore della Lombardia e migliore del Veneto. Ferrara deve essere in questo pacchetto e la cooperazione vuole fare la sua parte. Assieme al direttore Ruggero Villani sono state diverse le voci che si sono confrontate al tavolo, moderato dal direttore del resto del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin. Significativo l'intervento di Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio che ha parlato non solo di cooperazione ma di coesione sociale. Significa anzitutto un'esperienza importante che ha realizzato sul nostro territorio quel valore e quell'esperienza di cooperazione che è riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione come una delle esperienze più importanti di mutualità e di solidarietà sociale ma anche di economia. La scelta di due parole chiave in questo convegno, in questa assemblea di 60 anni coesione e competizione dicono questi due valori della cooperazione. Da una parte essere sul territorio, rappresentare un territorio, far crescere un territorio in termini di inclusione, integrazione, di attenzione ai più deboli e ai più poveri ma anche far crescere la realtà economica attraverso un sistema che valorizzi soprattutto la partecipazione dei soci e non il capitale e valorizzi anche la mutualità in quello scambio fra gratuità e profitto che sono due realtà importanti anche dentro l'economia. Lei ha parlato giustamente di coesione, c'è bisogno di più coesione nel futuro del nostro paese? Anche nella nostra città le proiezioni dei prossimi 10-15 anni dicono che ci saranno più poveri, più anziani, più persone sole e più migranti. Il tema della coesione sarà uno dei temi fondamentali della politica del futuro ma anche dell'impegno e della rappresentanza che la cooperativa è chiamata a costruire sul territorio. Proprio le economie coesive sono state un traino per Ferrara anche nei momenti più difficili. Pur nelle grandi difficoltà che Ferrara ha avuto in questi anni molte delle difficoltà generate da grandi imprese sono state compensate dall'aumento di questa economia coesiva cioè della capacità di generare cooperative anche in settori che prima non conoscevamo ma però che hanno tre caratteristiche. Uno, rivolgersi ai bisogni delle persone, secondo rivolgersi ai bisogni del territorio, proprio dell'ambiente e terzo rivolgersi a quelli della comunità. Questi sono anche i tre filoni che avranno in futuro il maggior spazio di crescita. Quindi non soltanto imprese radicate nella storia, quasi residuo del passato, ma imprese che oggi si dimostrano fortemente orientate a quelle che sono le nuove frontiere dello sviluppo. I servizi alla persona, i servizi educativi, i servizi di prossimità sono quei nuovi bisogni che si affiancano ai luoghi tradizionali della cooperazione che sono quelli ovviamente delle cooperative di lavoro sia in agricoltura, sia nell'edilizia, sia nell'attività dei servizi che in questi ultimi anni invece sono estremamente utili, direi indispensabili, per cercare di aiutare chi governa l'ente locale a ricomporre queste fratture. Direi che in sintesi questo è il ruolo nuovo che io ritengo il mondo delle cooperative debba in qualche modo affrontare anche in senso professionale e di acquisizione di competenze proprio perché la frammentazione della base sociale rappresenta la sfida più importante per enti locali che negli anni in cui si presentavano queste problematiche, pensiamo solo alla distanza tra generazioni, tra gli adulti, oggi non c'è più un ascensore sociale che consente sulla base dell'affermazione dello studio di crescere la propria posizione sociale e quindi abbiamo una conflittualità tra giovani e anziani, pensate ai residenti nelle frazioni di un comune esteso come quello di Ferrara, ecco questo apre la strada di una serie di servizi che sono di carattere educativo, di avviamento al lavoro ma anche di servizio vero e proprio alle persone che non sono coperti da nessuno. In questi anni dove si sono presentati questi nuovi bisogni agli enti locali sono venuti in meno moltissime risorse, quindi ci si inventa quotidianamente un modo per ricucire queste distanze e penso che la cooperazione abbia un ruolo fondamentale in questo. A parlare di opportunità di crescita per il territorio ostense è intervenuta anche Confindustria che ha sottolineato i legami che si possono creare con i territori confinanti. Noi come Confindustria abbiamo investito per unirci insieme a Bologna, insieme alla provincia di Modena in modo tale da aumentare le relazioni dei nostri soci con queste zone molto dinamiche e questa è una grande opportunità per noi ferraresi, sia di uno spostarsi lì e diciamo contaminarci con delle idee imprenditoriali, con degli sviluppi completamente nuovi, agganciarci diciamo al traino di giusbo, più anche trascinare, portare sul nostro territorio che comunque è ricco di giovani, è ricco di strutture, trascinare una parte dell'industria bolognese e modenese si può fare perché comunque la risorsa scarsa che è quella dei giovani in gamba che escono fuori dalle scuole superiori è una risorsa scarsa a Bologna e a Modena noi ce l'abbiamo, quindi si vive anche bene, la gente non vuole muoversi quindi utilizziamo le leve di forza che abbiamo nel nostro territorio cerchiamo di insediare aziende che sono in collegamento internazionale attraverso questi punti di forza forti che è la Via Miglia se vogliamo Tra i tanti presenti intervenuti a concludere la partecipata assemblea è stato il presidente nazionale di Conf Cooperative Maurizio Gardini che ha affrontato vari temi tra cui quello di un futuro sempre più digitalizzato ma che deve mantenere al centro la persona, come evidenziato da un emozionante video proiettato durante il pomeriggio Noi non dobbiamo porci contro la digitalizzazione e l'innovazione non possiamo essere come i tessitori che rompevano e distruggevano le macchine a fine Settecento non possiamo metterci contro la storia La digitalizzazione è anche un'opportunità non è solamente una difficoltà per le generazioni meno giovani Noi però dobbiamo anche qui rivendicare il diritto di tutti ad avere vita e posto nell'era della digitalizzazione perché il rischio se no è di decretare processi di espulsione e una persona uomo o donna che sia inserito all'interno di un ciclo lavorativo che a 50 anni si trovi espulso dal ciclo lavorativo non entra più e allora è un dramma, allora è un problema che diventa un problema non solo della famiglia ma diventa di tutta la comunità e del paese Allora sia la digitalizzazione ma a un modello di digitalizzazione che sia aperto a tutti attraverso dei processi di politiche attive del lavoro e che sia un'opportunità veramente a disposizione di tutti per lo sviluppo e che sia un'opportunità che sia un'opportunità